che 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 non è buono che come si fa che che non è buono che come si fa che patente ciao fiorellino che 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 per qualche mancato che 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 hai Diamo sempre qualche imbecille Che dopo una settimana Arriva la notte a fare la scritta Con la bomboletta Che O per lasciare la propria firma O per mandare un messaggio d'amore alla propria ragazza Che Ciao fiorellino Che Che Frullino sei il mio battito d'are Che Frullino sei il mio battito d'are Che Frullino sei il mio battito d'are Che Se voi trovate un ragazzo che è così imbecille da scrivere questi messaggi Prima lo lasciate meglio Frullino sei il mio battito d'are Frullino sei il mio battito d'are Che 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 non è buono 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 Che non è buono